Crack della Banca Popolare di Bari, ancora un rinvio del processo ma dovrebbe essere l'ultimo. La prossima udienza, fissata per il 2 marzo, si dovrebbe celebrare grazie alla decisione degli avvocati, che rappresentano le migliaia di parti civili, di farsi delegare in udienza, riducendo così da 252 a 32 il numero delle persone presenti in aula. L'idea è degli avvocati dell'Unione Nazionale Consumatori e cerca di far fronte alla mancanza di una struttura abbastanza grande, a garanzia del rispetto della normativa anticontagio. Il processo attualmente si celebra nell'aula bunker di Bitonto, che ha una capienza di 45 posti, insufficienti per contenere tutte le parti costituite e da diversi mesi viene rinviato. Quella che sembrava la sede prescelta e il cinema showbile di Bari è saltata nei giorni scorsi per questioni tecniche e così i capi degli uffici giudiziari avevano individuato il centro congressi della Fiera del Levante, sul quale però si deve ancora pronunciare il Ministero della Giustizia. Da assuazionisti scrivono al prefetto proponendo l'auditorium della Guardia di Finanza al quartiere San Paolo di Bari. Ma per mettere fine all'attesa che non fa altro che avvicinare allo spettro della prescrizione, la soluzione delle deleghe studiata dagli avvocati tenta di sbloccare una situazione di stallo che si protrae da troppo tempo per garantire il diritto alla giustizia di migliaia di risparmiatori. Dopo quattro udienze, quella di oggi sarà l'ultima falsa partenza, dice l'avvocato Antonio Calvani dell'Unione Nazionale Consumatori. Nel processo sono imputati gli ex amministratori Marco e Gianluca Iacobini, padre e figlio, rispettivamente ex presidente ed ex condirettore generale della banca, accusati di aver falsificato per anni i bilanci e i prospetti e di aver ostacolato l'attività di vigilanza di Banca Italia e Consob. Hanno chiesto di costituirsi circa 3.000 parti civili tra azionisti, regione Puglia, comune di Bari e associazioni.